Ancora una volta di notte le strade di Cava dei Tirreni diventano protagoniste di violenti impatti come il frontale tra due moto avvenuto 20 minuti dopo l'una in via a Vallone. Lo scontro ha visto coinvolte tre persone che sono state condotte subito al pronto soccorso dei volontari del 118 dell'Humanitas. Due originali della città metelliana sono stati ricoverati d'urgenza all'ospedale Santa Maria dell'Olmo. La loro prognosi resta riservata. Meno gravi invece le condizioni dell'altro ferito. La ricostruzione dei fatti è affidata alle forze dell'ordine.